Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Oggi è giovedì 11 febbraio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento leggendo i titoli del quotidiano del Molise. Come titolo centrale porta sanità pronta una terza proposta. Il forum di difesa degli ospedali pubblici raccoglie il progetto di ruta e leva e rilancia. Lucio Pastore ora siamo un soggetto con il quale confrontarci. Parteciperemo a tutte le trattative. E poi Palazzo Moffa consiglio rinviato. Le minoranze alzano la voce. Critici gli esponenti del centrodestra. E ancora scintille ieri durante il consiglio comunale scuole sicure il piano del sindaco Battista. Costruiremo nuovi edifici. Il piano Battista prevede la costruzione di scuole nuove. Primi risultati a settembre ma le opposizioni insorgono. Basta proclami. Nel taglio alto della stessa pagina troviamo sorpreso dai carabinieri a rubare un altare al cimitero. E ancora alla Cattolica c'è una bomba. Scherzo di pessimo gusto. Ieri mattina la telefonata alla centrale del 112. E ancora in tasco fondi pubblici. Nuovo arresto per l'ex funzionario della regione Carugno. Deve scontare un residuo di pena di oltre un anno e mezzo l'ex funzionario della regione Elvio Carugno trasferito dai carabinieri di Larino ai domiciliari. E nel taglio basso della stessa pagina troviamo Isernia. Fatture false. Bianchi non risponde. Se n'è andato in Svizzera. E ancora Isernia il forte vento non risparmia all'auditorium cede il soffitto. Danni anche al palazzetto dello sport e in diverse abitazioni. E ancora lo sport serie di lupi, agnello, aliberti vicino all'ingresso in società. L'imprenditore è disposto a dare una mano. E ancora eccellenza il Gambatesa conquista un punto prezioso nel recupero. Di Lallo al 91esimo riacciuffa il Vasto Girardi. Proseguiamo con le notizie del quotidiano online tutto Molise. Edilizia scolastica. Ieri convocato presso il comune di Campobasso il consiglio monotematico per discutere del tema. A caratterizzare la seduta un acceso dibattito sui provvedimenti da prendere. Le rassicurazioni pronunciate in conferenza stampa dal governatore Frattura e dall'assessore Facciolla sembrano non soddisfare i consiglieri di centrodestra che dichiarano di attendere il dibattito in consiglio. Riscoprire le antiche usanze di Campobasso. Il fine dell'associazione Arti e Tradizioni di Fontana Vecchia che ha festeggiato il Carnevale. Proseguiamo con le notizie di Primo Piano Molise. Come titolo centrale riporta sicurezza tra i banchi. Scintille in aula durante la seduta monotematica. Il sindaco di Campobasso annuncia la svolta. Basta interventi tampone, solo scuole nuove, ma l'opposizione attacca l'amministrazione che finora non ha dato risposte concrete. A Palazzo San Giorgio oppure i genitori degli alunni di Via Crispi alle prese con i turni pomeridiani. Da settembre le elezioni negli edifici antisismici di Via Sant'Antonio dei Lazzari e Via Berlinguer. E ancora il piano Ruta Leva ridaffiato ai comitati. La loro proposta sposta l'asse verso il pubblico. Il documento dei parlamentari DEM toglie al privato 89 posti letto, inverte il trend e questo ci fa piacere. Nella taglio alto troviamo Elvio Carugno torna ai domiciliari. L'ex dirigente regionale deve scontare la pena residua condannato per peculato. Rialzati Molise e convince Giuseppe Caterina. Condivido il progetto ma non mi candito. Isernia verso le elezioni. Nel taglio basso ci spostiamo a Venafro. Raffiche di vento provocano danni. Crolla un'insegna pubblicitaria. Sfiorata la tragedia. Termoli vittoria dei pendolari. Sarà ripristinata la corsa ferroviara delle 8 e 5 per Foggia. Spostandoci in Abruzzo. Vasto il chitarrista Nicola Oliva sul palco dell'Ariston con Laura Pausini. E ancora l'annuncio potrebbe arrivare prima di fermo. Lupi. Ecco la svolta societaria. Aliberti verso il Sì. È rosso-blu. Si attende solo l'ufficialità. E ancora serie D. Pifano indica la strada degli Agnone. Niente calcoli. Servono i punti. Eccellenza pari nel recupero. Il Gambatesa frena la scalata al primato del vasto Girardi. Proseguiamo le nostre letture con il quotidiano online Agenzia Stampa Molise. Petro Celtic. Rinuncia alle trivellazioni a largo delle Tremiti. Soddisfatto il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca. Il nuovo prefetto di Isernia, Fernando Guida, in visita istituzionale al comando provinciale dei Carabinieri. Tomassone PD. Il Molise diventerà una regione virtuosa a rifiuti zero in pochi anni. E ancora giornata del malato 2016 istituito. Neuromed sottolinea l'importanza del sostegno al malato e alla sua famiglia. Campobasso. Il 13 e 14 febbraio. Vincenzo Salemme al Teatro Savoia con sogni e bisogni. E ancora Isernia. Furto aggravato di oggetti sacri. Cinquantenne arrestato dai Carabinieri. E ancora gruppo insieme per Pietracatella. Chiediamo trasparenza rispetto alle regole e il rigore della spesa. Isernia Camper Club. Ivan Perrera è stato confermato alla presidenza per il prossimo triennio. Sergio Sorella è il nuovo presidente nazionale di Port Proteo. Fare e sapere. Cassino. Universo integrato. Un altro modo di raccontare l'immigrazione. E il nostro appuntamento prosegue con la lettura dei principali quotidiani nazionali iniziando col quotidiano La Repubblica. Come titolo centrale riporta le Renzi. L'Europa sbaglia. Di sola austerity si muore. Ministro unico del tesoro. Il premier risponde a Scalfari. Padoan dice sì. E ancora unioni civili. Battaglia nel PD sul voto segreto. Nel taglio alto della stessa pagina troviamo posacenere in strada e nelle tasche. La sfida delle città ai mozziconi. E ancora noto i falchi difendono il barocco dai piccioni. Spagna salvata dai nipoti. La memoria della guerra civile. E nel taglio basso della stessa pagina troviamo la rivincita di Sanders e Trump. Hillary in crisi. Il modello Clinton. Proseguiamo con le notizie del quotidiano libero. Il PD divorzia per le nozze gay. Una parte del partito si ribella. Molti non vogliono votare gli articoli che permettono agli omosessuali di comprarsi un figlio all'estero con l'utero in affitto. Come ha fatto il senatore che ha scritto la legge. E ancora Roma centrodestra gioca a Mosca Ceca. Salvini contro Meloni. Bruciato un altro candidato. E ancora vi racconto la vita di un rompiscatole di nome Panza. Spostandoci nel taglio basso della stessa pagina troviamo ci vogliono così. Crucchi o morti. E il governo rinvia ancora il decreto sui risparmiatori rovinati dal salva banche. La folla idea del ministro unico del tesoro europeo non eletto. Proseguiamo con le notizie del Fatto Quotidiano. L'Air Force Renzi è tutto segreto. Nessuna gara d'appalto e nessuna informazione per il leasing del mega Aribus voluto dal Premier. I documenti collegati sono classificati come riservati e accessibili solo ai PM. Quanto costa? Palazzo Chigi blinda i contenuti dell'accordo con Etihad. Nel taglio alto della stessa pagina le tessere in bianco del PD valgono tre anni in vista del congresso. E ancora Ustica e Gheddafi. L'ultima battaglia sulla pista francese. E ancora nel taglio basso poste col trucco. Il governo sapeva tutto. Ecco le prove. E ancora crack banche. Niente rimborsi. Immobili. Rischio. Svalutazioni. Decreto rinviati gli indennizi cattive e sorprese dal piano Bad Bank. Proseguiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Come taglio principale e notizia centrale troviamo ora l'Ilva Fagola. A molti sono 29 le manifestazioni di interesse. Domani quelle ammesse in corsa anche Arvedi, Marcegaglia, Transtil e Ancelor Mittal. La vendita del siderurgico. Emiliano partecipa al corteo dei lavoratori e apre un tavolo di consultazione alla Regione. Ancora Unioni superato il primo scoglio. Nel PD scontro con i Cattodem. E ancora la regionale Otto bocciata. Le ragioni in due cartine. Tracciato diverso dal progetto iniziale. Spostandoci invece nel taglio alto troviamo negozi. La crisi non molla a Bari altre chiusure. Bari Blu senza pace. Quattro licenziati da Iper Simpli. E ancora Carrozze d'Oro sud-est. La parola della Cassazione. La Corte dei Conti sospende il processo. Il caso secondo l'accusa i vagoni di seconda mano sarebbero stati pagati il doppio. Nel taglio basso troviamo Sanremo va 11 milioni. E' boom degli ascolti. Successo e polemiche per la prima serata. E ancora Brindisi caccia ad altri soldi. C'è il sospetto di tangenti più ricche pagate da Consales. L'affare rifiuti chiusa anche la discarica formica. Scatta l'emergenza. Proseguiamo con le notizie del quotidiano l'avvenire. Come taglio centrale notizia principale troviamo a coscienza limitata. Unioni civili e adozioni spaccatura nel PD. Grasso rifiuta il segreto. Il primo sì al DDL. Il fatto al Senato Zanda concede il gruppo l'opzione soltanto su tre emendamenti. La cattolica insorge e Renzi chiede una mediazione. Nel taglio alto della stessa pagina troviamo Sanità. Il ministro Lorenzin ha trovato un tesoretto. I medici alt ai tagli. E ancora rapporto europeo sui migranti. Rischiamo all'Italia su controlli e rimpatri. Ultimatum dalla Grecia per Schegen. E ancora primarie USA. Trump e Sanders tentano la fuga. Arranca la Clinton. Nel taglio basso invece troviamo finanza. CDM nella notte con la riforma BCC. Rimandati i rimborsi. Le borse rifiatano. Il governo spinge le fusioni bancarie. E concludiamo il nostro appuntamento leggendo le principali notizie della Gazzetta dello Sport. Come notizia principale taglio centrale troviamo chi deciderà. Quadrado e Insigne. Nostra intervista al doppio ex. Di Bala e Iguain sono grandissimi. Ma Juan è il più veloce di tutti. E Lorenzo è quello che ha fatto fare un salto di qualità al gruppo di Sarri. Come finirà? Le difese sono così forti che io mi gioco il pari. Mentre nel taglio alto della stessa pagina troviamo Inter, FIFA, Viola. Ma torna a Miranda. Fiorentina con Cone per i gol. A centrocampo Moratti potrei non vendere le mie azioni. E ancora Caos Palermo via Schelotto. Settimo cambio. Sulla panchina per Orava Bosi, tecnico della Primavera. E il nostro appuntamento finisce qui. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al meteo e vi auguro buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per giovedì 11 febbraio. Un veloce impulso instabile scivola sulle nostre regioni di sud-est con precipitazioni al mattino sul Molise. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 4, massima 7 gradi. Isernia minima 4, massima 10 gradi. Termoli minima 9, massima 12 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.